Nell'ambito della programmazione del Corigliano Rossano Summerfest 2023 per la seconda tappa del 22esimo Peperoncino Jazz Festival, in programma al Castello Ducale di Corigliano Calabro, nella Sala degli Specchi, una trombettista d'eccezione. Parliamo di Fabrizio Bosso. Dotato di una tecnica strumentale, ineccepibile, di un lirismo capace di far risuonare le corde più profonde nell'anima di qualsiasi ascoltatore, Bosso ha sviluppato la sua crescita artistica e la sua carriera confrontandosi con tutti i generi musicali, pur rimanendo sempre fedele alla propria radice, ovvero sia quella jazzistica. Ad accompagnare nello spettacolo lo stesso Fabrizio Bosso c'è stato Elio Coppola alla batteria, poi Antonio Caps alla pianoforte e infine al contrabbando Antonio Napolitano. Ma Fabrizio Bosso, batterista di fama mondiale, ha iniziato davvero da pochi anni la sua grande ascesa nel panorama gestistico internazionale. E pensare che il primo contatto con la tromba lo ha avuto appena a cinque anni. A cinque anni ho iniziato ad averci a che fare con la prima tromba vera, dopo aver distrutto circa tre o quattro trombe di plastica, perché mi arrabbiavo perché avevano quattro pistoni. Non ci hanno mai capito questa cosa, perché le trombe di plastica, se ci fate caso, hanno quattro pistoni, perché la tromba ce n'è a tre. Allora un giorno ho detto, io la voglio vera come la tua, a mio padre, e mi hanno comprato la prima tromba e da lì è partito il percorso. Poi mi sono diplomato, insomma a 15 anni, ho finito il percorso classico, già mi ero avvicinato al jazz perché mio padre suonava nelle prime big band amatoriali, che c'erano negli anni Ottanta in Piemonte, e poi verso i 15-16 anni ho capito che la mia strada era quella del jazz o comunque della musica moderna, pur piacendomi molto la musica classica, però sentivo più vicino a me quel tipo di musica. Sous-titrage MFP. Grazie.